Buongiorno, ben ritrovati, buon sabato mattina per l'appuntamento quotidiano con la carta stampata Occhio ai giornali, la rassegna stampa di Fano TV che come tutte le mattine apre la vostra giornata sul fronte dell'informazione e naturalmente lo faremo anche questa mattinata però non prima come sempre di aver visto Santo del Giorno e Previsioni del Tempo E allora guardiamolo il Santo del Giorno, oggi è sabato 6 maggio, San Pietro Nolasco il sole è sorto alle 6.52 e tramonterà alle 20.17 Previsioni del Tempo, guardiamole, insomma sono perlomeno sulla carta non poco edificanti vedete la mattinata si presenta in questo modo con un sole un po' su tutta la regione però velato perché come ci dicono dal sito Trebi Meteo c'è un'alta pressione all'altezza del nord Italia e il passaggio di una perturbazione da ovest che determinerà un aumento della nuvolosità alta stratificata sulle regioni del medio versante adriatico e quindi anche il nostro e arriveranno i piovaschi e vedete che dal pomeriggio di oggi la situazione peggiora abbastanza insomma è sicuramente tendente al brutto, sole con comparsa di pioggia per poi addirittura nella serata il sole scompare quasi definitivamente per lasciare spazio alle nubi domani, domenica, la vediamo ecco dalla cartografia un'evoluzione abbastanza eloquente vedete nella mattinata nuvole e pioggia su tutte le marche tranne un piccolo ritaglio nella zona meridionale però insomma mattinata veramente pesante, pomeriggio ugualmente scompare la pioggia però comunque la nuvolosità permane quindi domani i maratoneti della Colemarathon insomma dovranno vincere un altro avversario il maltempo oltre che la fatica e i chilometri da percorrere iniziamo con i giornali, andiamo nel Corriere Adriatico, vi faccio vedere la pagina di apertura diversi sono i lanci che ci sono, la crociata sui vaccini, no all'obbligo per i bambini nasce il comitato che si oppone a regione e comune, dicono i fondatori siamo già in 200 e poi fotonotizia centrale, domenica prossima arrivano i bersaglieri in sella Pesaro pedala forte e a fianca Bolzano, la Gambiente la premia come città più bike friendly e l'obiettivo sono 100 km di ciclabile e poi fronte dell'olio c'è naturalmente l'indagine dei carabinieri forestali frode all'olio del tartufo, sequeste e sanzioni salate dopo lo vedremo anche all'interno delle pagine del Corriere Adriatico apriamo la pagina che riguarda però Pesaro, Pesaro in primo piano si parla di giustizia, che cosa avviene? che ladri, ubriachi e spacciatori possono scontare la pena lavorando giardinieri, assistenti, agli anziani e anche in ospedale in 5 anni sono state affittate all'Auser 530 persone dal tribunale lo dice il presidente dell'Auser Natale Alessandrini che vedete in questa pagina e qui appunto si parla di rinascita ancora nelle pagine di Pesaro si parla di impatto ambientale naturalmente è una città che punta sulla mobilità ecosostenibile è una città che ha meno smog e infatti eccolo qui meno smog fa bene anche al turismo non è solo il legame tra inquinanti e salute a preoccupare ma abbattere anche le polveri può diventare una strategia di marketing medici e ricercatori e amministratori a confronto su quello che deve essere il modello di sviluppo sostenibile e appunto dal lancio della prima pagina più bici e meno auto Pesaro pedala con Bolzano e domenica 14 appunto come diceva in prima pagina arrivano i bersaglieri di biciclette e di marce se ne intendono insomma sono i loro due mezzi almeno era così i loro due mezzi di locomozione preferiti Pesaro all'indagine dei supermercati quattro marchi di aziende che producono prodotti al tartufo sotto il mirino degli agenti l'aroma del tubero era ottenuto con processi di sintesi chimica e quindi la forestale indaga su frodi commerciale sanzioni per 20.000 euro però già modificate le etichette l'olio era al tartufo però solo nel prezzo non si tratta naturalmente questo lo diciamo per quanti magari li hanno acquistati e ora magari vedendo questa notizia leggendola si possono preoccupare era soltanto una sintesi chimica ma non c'erano prodotti nocivi e quindi pericolosi per la salute anche perché poi la grande distribuzione non risulta coinvolta in alcun modo quindi c'era solo il profumo solo l'odore ma non c'era traccia di tartufo andiamo a Urbino con il Corriere Adriatico caso di rapina per bullismo ma il processo è una lezione siamo al Palazzo di Giustizia gli studenti interpretano imputato vittima e testimoni davanti al giudice Movida e rumori Gambini convoca i commercianti e gli universitari per fare un po' una sintesi sulle diverse esigenze cercare di coniugare appunto divertimento ma anche sicurezza e tranquillità a Urbino poi si parla nella pagina di Urbino anche di un'iniziativa di successo è il formato Coditrip ideato dal professor Begliolo e consiste nella caccia al tesoro che uniscono però arte, istruzione e divertimento insomma un'alternativa alle cacce del tesoro usuali dove ci sono altri gli argomenti di perno qui c'è l'arte e può essere un bel modo per visitare i monumenti di una città a Fano con il Corriere Adriatico ritrovamenti archeologici rallentano la nuova strada siamo nei pressi del casello a Forcolo ci sono anche mosaici e vasche grande cartiere operativo in questi giorni a Fano e quello delle opere compensative per la A14 e naturalmente si sa che a Fano come si scava si scopre qualcosa a Chiaruccia ritenuta una fornace questo ritrovamento e naturalmente interviene la soprintendenza e venerdì prossimo ci sarà ci sarà il sopralluogo e poi in fondo a notizia l'indagine dell'attentato a Fano TV il PM ha dato l'incarico al perito e anche un penito nominato dalla Zaccarelli 30 giorni per analizzare i telefonini degli indagati vediamo l'altra notizia sul Corriere Adriatico si parla di lavori che riguardano i cimiteri della città nuovi loculi si completa il programma dei cimiteri ampliata la struttura di Rosciano Bellocchi molte salme presto saranno ritumulate vedete a sinistra da sinistra l'assessore Cristian Fanesi Massimo Seri e Don Giuliano Marinetti e poi Marinelli scusate e poi di spalla Ivan Cottini in fondo in coraggio agli studenti colpiti dal sisma missione ad Amandola con l'istituto Olivetti da parte del modello che soffre appunto di SLA e lo vedete qui uno dei suoi classici selfie che si immortala insieme ai suoi amici e ai suoi fans tensione all'aeroporto si parla dell'aeroporto nelle pagine di Fano c'è anche Celani che dà forfè comunicazione a sorpresa a poche ore prima dalla convocazione il profilo naturalmente giudiziario della questione della vicenda Fano clima di tensione intorno all'aeroporto tra denunce presentate indagini consigliate in corso e iniziative giudiziarie annunciate ecco qui i velivoli nell'hangar dell'aeroporto ancora dalla Val Cesano sempre il Corriere siamo a Pergola si rilancia in Europa il patto di amicizia con Nivelles il sindaco e la Confucomercio strigono un rapporto con la città del Belgio favoriamo tradizioni, valori e non burocrazia e grande finanza questo è il pensiero di Francesco Baldelli il sindaco di Pergola e questo è lo scopo del suo gemellaggio andiamo a Senigallia con le pagine del Corriere dopo chiudiamo il Corriere Adriatico Senigallia si rimette in forma c'è Cross Game una super sfida fitness e wellness due giorni di sudore e divertimento con le novità dello sport per tutti i soggiorni con pacchetti che riguardano lezioni benessere insomma il wellness è sicuramente un altro di quei settori vedete poi qui le discipline si va anche dalla zumba al ballo istruttori professionisti musica c'è di tutto e di più per chi fa del movimento fisico e dell'attività fisica anche un'opportunità di business e di sviluppo insomma lo sport e tutte le varie declinazioni di esso è sicuramente un veicolo non solo insomma di benessere ma di sviluppo anche della città se questo si convoglia verso il turismo che insomma in questo ambito ha una grossa fetta di appassionati ancora l'ultima pagina che vi propongo di Senigallia la scienza che spettacolo Fosforo accende curiosità e divertimento anche ieri folla di adulti e bambini per la terza giornata in Piazza Duca tutti alla scoperta dell'amore tra gli insetti appuntamento quindi con i big del web e i performance alla sorpresa anche dell'All Star Show vedete qui una foto abbastanza eloquente in una zona centrale di Senigallia quanta partecipazione sta attirando questa ennesima manifestazione della città della spiaggia di Velluto andiamo nel resto del calino per chiudere ecco qui in testa di pagina Pesola ha già vinto il suo Giro d'Italia appunto si parla del del rapporto di Lega Ambiente che dice siamo la città della bicicletta scavalcate anche Bolzano e Ferrara poi a centro pagina sparerò ad altezza Duomo si parla dell'eventualità appunto della legittima difesa che si sta appunto che si sta tenendo come dibattito come argomentazione un po' in questi giorni parla anche un tabaccaio di Villa Fastigio subito furti a raffica la prossima volta miro proprio ai ladri magari vado in galera ma questo non mi importa queste le sue considerazioni e poi in testa di pagina fanno tv caldi anche i telefonini analizzati i traffici telefonici dei tre imputati tra Zaccarelli e la vittima 6.000 contatti in un anno sequestri e multe olio tartufato senza tartufo e quindi anche qui sequestri e multo da parte dei carabinieri forestali l'atteggiamento offensivo di alcune persone che hanno naturalmente ricevuto la visita dei ladri sul quanto sta appunto il legislatore mettendo appunto sulla legittima difesa alza il dibattito e proprio loro sono i primi che hanno subito questi attacchi che parlano il Carlino pagina 2-3 dedica due pagine intere noi per farvi vedere più notizie possibile ve ne mostriamo soltanto uno qui però c'è il suo pensiero insomma quello che lui ha messo nero su bianco la pistola al poligono ci si esercita e così in casa ci si sente più sicuri i dati sul possesso di armi e la crescita è netta per il porto al tiro al volo quasi raddoppiati i rilasci in 5 anni e questo qui poi c'è appunto quella personale il permesso per il porto alla pistola viene rilasciato però dalla prefettura soltanto a certe condizioni e vedete qui nell'altra pagina poi c'è l'intervista della persona che esprime il suo pensiero di quel tabaccaio che ha subito diverse rapine ci sono stati diversi articoli di cronaca sui giornali e poi lotta all'abusivismo e parcheggiatori siamo in piazzale Carducci a Pesaro il balzo della gente tre abusivi finiscono in questura ma hanno il permesso di soggiorno in regola però il giro di vite continua vedete blitz continui forze di polizia in piazzale Carducci che è quello di fronte al tribunale anche qui meta di tantissimi parcheggiatori abusivi o venditori di mercanzia varia la pagina di Fano del resto del Carlino ultimo taglio prima del Gran Galà l'iniziativa dell'iniziativa del resto del Carlino la festa del Gran Galà dei commercianti i vincitori con i vincitori e il fanese dell'anno e poi in basso si parla anche qui dei lavori nel cimitero di Rosciano un super cimitero seri il sindaco dice saranno trasferite subito le salme inumate altrove caro estinto gli investimenti abbiamo sistemato il cimitero dell'Olivo ora tocca a Caminate con un nuovo padiglione vi faccio vedere anche una notizia che insomma travalica i confini cittadini regionali e nazionali Sofia la conquista di New York studio lavoro e penso a Broadway esibizione anche a Ground Zero è Sofia Pucci che ha colto lo spirito della Grande Mela dove c'è devozione ma anche tante occasioni da sfruttare giovane fanese con le idee chiare farò la danzatrice per mestiere e quindi speriamo che questo gli porti tanta fortuna dalla Valcesano un'altra di quelle zone dove presto apriamo questa finestra politica ci saranno le votazioni per eleggere il sindaco e faremo di terre roveresche una terra di crescita parla Cionna che ufficializza la sua candidatura la squadra c'è e dice non lasceremo indietro nessuno ex sindaco di Piagge appunto si candida a guidare il nuovo comune che è stato creato e quindi che andrà alle elezioni insieme all'altro comune Colli al Metauro che vedrà appunto l'elezione del loro nuovo primo cittadino bene questa è l'ultima pagina che vi proponevo termina qui la rassegna stampa di Fano TV Occhio ai giornali che tornerà lunedì mattina puntualmente alle 7.30 buon weekend a tutti voi